Ho appena uscito dalla strada ciclabile, dal sentiero ciclabile, interdetto alle macchine tra l'altro, teoricamente forse anche alle moto, dove ero prima, e comunque questo è il bello della moto che ti permette di girare in libertà. Allora, adesso sono arrivato ad un paesino chiamato Pilis Stemkerest, con un po' di fantasia in slovacco, mi pare sia slovacco, si chiama Amlink, e anche questo è un posto fantastico, un paese, boh, era popolato da 300-400 cristiani. Anche questa volta provo con la camera a dare un'idea del panorama. Ah, qua lì c'è il confine ungherese-slovacco. Forse ci faccio un salto. Il posto è bellissimo, anche questa è un guerrilla, un saluto da questa. Grazie. 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 Grazie.